Benvenuti a Made in Italy, viaggio nell'energia responsabile, sigla. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parliamo di energia, vogliamo dire di cosa si occupa Ecotermica? Ecotermica è una società piemontese che è nata intorno alla metà degli anni 90, che sostanzialmente è partita nel ricercare una nicchia dello sviluppo delle energie alternative e poi strada facendo, in funzione un po' l'esperienza e anche l'evoluzione delle normative, ha sviluppato progetti cogenerativi, normalmente abbinati a rete di teleriscaldamento. E poi naturalmente non ha abbandonato quella che era l'idea delle energie rinnovabili e quindi ha fatto una serie di sperimentazioni sia sull'utilizzo di biomassa a fini energetici, anche elettrici e anche olio vegetale, che comunque è un combustibile alternativo considerato biomassa. E poi quali sono i progetti che avete realizzato? Ma allora in Piemonte siamo partiti prima con piccoli progetti abbinati per esempio a case di cura o mi viene in mente la scuola agraria salesiana, diciamo piccole e medie strutture, soprattutto energia termica, quindi stiamo parlando di energia termica. E poi grazie anche a una linea di finanziamenti regionali che erano stati stanziati intorno agli anni 2000 abbiamo sviluppato il primo teleriscaldamento a biomasse sul comune di Verzuolo, quindi due caldaie a legna che fanno solo energia termica e che distribuiscono l'acqua calda in alternativa ai combustibili fossili tradizionali, gasolio, gasolio e metano. Da lì sempre a biomassa è seguito l'impianto di Castellamonte che era un appalto pubblico, poi il teleriscaldamento di Leini e poi diciamo intorno al 2003-2004 abbiamo iniziato a sviluppare progetti di cogenerazione, quindi grossi motori per esempio di navi, per dare un'idea che invece di far girare l'elica fanno girare un alternatore che produce energia elettrica e quindi un recupero termico abbiamo abbinato a reti di teleriscaldamento, abbiamo realizzato Saluzzo, quindi siamo in provincia di Cuneo perché io sono cunese, Savigliano e poi Costigliolo e Saluzzo e abbiamo in essere la realizzazione di Ivrea, banchette già realizzato e stiamo per iniziare Cirie. Torneremo a parlare anche di questi progetti, allora Davide Bono, l'energia è uno dei temi su cui voi puntate maggiormente, esiste un problema energetico in Italia? E se sì, quale? Ma secondo noi pensiamo che esista più che altro un problema di cultura e di programmazione politica, quindi che investe l'energia ma investe anche altri temi, fondamentalmente parlo appunto di un problema di cultura politica perché si parla sempre di produrre più energia perché non solo aumenterebbero i consumi ma c'è proprio un'idea di crescita continua esponenziale degli stessi, quando abbiamo visto che negli ultimi anni i consumi di energia sono diminuiti, chi dice per la crisi, chi dice anche per eventualmente la migliore efficienza ad esempio dell'industria che sono grazie ad esempio al meccanismo dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica o quant'altro. Quindi un problema di programmazione di politica energetica esiste quando appunto la politica non fa altro che pensare di costruire nuove centrali, ad esempio adesso il tema sicuramente centrale è quello di costruire nuovi impianti elettronucleari, quindi il nucleare come fonte pulita, sicura, mettono i punti interrogativi, rinnovabile, punto interrogativo di energia, quando noi invece sappiamo benissimo che mettendo in efficienza i consumi elettrici e soprattutto i consumi termici delle case, noi potremmo ridurre tantissimo i consumi di energia e quindi l'impatto sull'ambiente ma anche la dipendenza dall'estero perché noi dipendiamo fondamentalmente ad esempio dalla Russia per quanto riguarda il gas naturale e il metano per i consumi termini, termici e anche per quanto riguarda l'energia elettrica, quindi è un problema fondamentalmente di questo tipo, quindi cercare continuamente la fonte di energia infinita che è da secoli che si tenta di fare, secondo noi è sbagliato, anche chi esalta ad esempio il mito dell'idrogeno, secondo noi sbaglia, prima di tutto dobbiamo pensare ad essere il più possibile autosufficienti e cercare di consumare meno possibile di energia e questo si può fare, abbiamo esempi di case non solo più passive ma case attive, cioè case che producono energia e la rimettono sul mercato, noi invece siamo ancora con un parco dell'edilizia residenziale, un colabrodo che perde veramente calore dal tetto, dai infissi, dai muri per fare esempi, così come per quanto riguarda gli elettrodomestici, adesso c'è un ricambio incentivato negli elettrodomestici ma sicuramente si può fare ancora molto e queste sono sicuramente le linee guida a cui deve tendere la politica del XXI secolo. Allora Gianluca, dicevamo in diverse trasmissioni appunto, prima di tutto bisogna puntare ad abbattere gli sprechi energetici, tu avevi lanciato la proposta così. Sì, è ironica se vogliamo. Il federalismo energetico, visto che ormai si parla di federalismo fiscale, ecco vogliamo approfondire di nuovo questo tema? Beh io credo che il lavoro dell'ingegnero Gero di Ecotermica vada un po' in questa direzione, abbiamo visto che ha parlato di tanti impianti che ha realizzato in vari territori, piccoli territori, piccoli e medi impianti, tra l'altro anche le potenze sono significative perché vanno dai 10 ai 20 megawatt di calore, piuttosto che con una cogenerazione di circa 6-7 megawatt elettrici, sono impianti comunque dignitose che danno energia anche a dei territori, delle cittadine intere e queste cittadine si autosostengono grazie agli sfalci, alle potature, perché è questo di cui si parla quando si parla di biomasse, non soltanto del compost, quindi delle deiezioni animali, ma anche e soprattutto di quelli che sono i prodotti organici della natura, quelli che non sono utili, quelli che è utile togliere per far vivere meglio un bosco. Quindi in questo senso utilizzare, invece che bruciarli nella caldaia, piuttosto che utilizzarli per accendere il barbecue, visto che siamo arrivati d'estate, il periodo è quello giusto, usare questi sfalci e queste potature per alimentare il calore, per portare acqua calda nelle case, questo è molto interessante, sotto due punti di vista, uno perché un territorio diventa indipendente, in questa maniera, e se ci aggiungiamo quello che diceva Bono, relativo al discorso del risparmio energetico, quindi con delle case messe a posto dal punto di vista dei ponti termici, quindi senza perdite grosse di energia, ovviamente il valore zero è sempre un obiettivo da raggiungere, ma è difficilmente raggiungibile perlomeno in natura, però ragionare appunto sul discorso della dispersione energetica in collaborazione con delle piccole centrali, poi abbiamo parlato in passato anche di microcogenerazione, ma poi ne parleremo più avanti, delle piccole centrali in grado di soddisfare i bisogni di quello specifico territorio, responsabilizza quel territorio sul consumo energetico, nel senso che, noi vi parlavamo anche per il discorso elettronucleare, se una cittadina si trova nella sfortunata coincidenza di essere ospite di un impianto elettronucleare, dico sfortunata perché il pericolo si muove alle porte, insomma io sono uno di quelli che si fida poco da questo punto di vista, deve comunque sapere che il suo bilancio energetico, come fosse quasi un conto della serva, è inattivo, e quindi questo bilancio inattivo permette di vendere dell'energia a magari un territorio attigo, piuttosto che chissà dove, in maniera tale da poter perlomeno non pagare la bolletta, ecco se un territorio è responsabile, se un territorio fa il risparmio energetico, lo pratica costantemente, e utilizza sistemi come quelli proposti da Ecotermica, per essere autonomo dal punto di vista energetico, lo deve essere davvero, cioè se riesce ad autoprodursi l'energia elettrica non deve pagarla, erano questi poi i principi del federalismo energetico.